Ciao, mi chiamo Salvatore Tortora, ho 14 anni, sono napoletano e vivo a Napoli. Io ho cominciato a studiare recitazione all'età di 8 anni, presso il Teatro Totò per due anni e mezzo. Oggi continuo ancora a studiare e il mio più grande sogno è diventare un grande attore, perché questa è la mia passione. Io ho cominciato questa mia carriera come attore con la comparsa nel film di Marco D'Amore, L'Immortale. Poi ho fatto anche un po' su Arsule, la scena di un bullo, e sempre dal provino dell'Immortale, che fece nel Teatro Totò, veni scelto per la serie tv di Roland Joffé, dove affiancavo il protagonista, e lavorai a Israele e Malta. Poi ho fatto anche L'Amica Geniale, il figlio di Lila, e ultimamente ho partecipato al nuovo film di Gabriele Salvatores, ed è stata un'esperienza bellissima. Io oltre a fare l'attore pratico uno sport, il calcio, però la mia vera passione è l'attore, e il mio sogno è il cassetto più grande. Ho una grande e bellissima famiglia che mi sostiene sempre, mia madre, mio padre e la mia sorellina. Ogni tanto litighiamo, ma la voglio un sacco di bene. Io frequento il liceo linguistico, perché mi piacciono un sacco le lingue, e vorrei impararle, ma soprattutto l'inglese, dove mi vorrei prendere la laurea e vorrei prendere anche il master. E niente, un abbraccio da Salvatore Tortora.